Beh, innanzitutto voglio dare il benvenuto a Paolo Bianco, che sarà il nostro nuovo mister. Nel contempo voglio ringraziare chi ci ha portato fino a qui, quindi voglio ringraziare a Teglio tutte le sere per i due anni passati insieme. Voglio ringraziare Mauro Melotti, che invece di anni ha passati molti di più, oltretutto ricoprendo tutti i ruoli possibili all'interno della nostra società. È il nostro terzo anno, è un anno importante, è un anno in cui vogliamo crescere. Riteniamo che l'ambiente avesse bisogno di una scossa per ripartire e migliorare quello che già di buono abbiamo fatto l'anno scorso. Ma io credo, come ho detto, che nella vita, come nel calcio, come in tutto, l'obiettivo è sempre migliorarsi, crescere. Nel caso specifico io spero di trovare maggiore continuità nei risultati e una mentalità vincente che ci faccia giocare un calcio divertente. Permettetemi di ringraziare la famiglia Rivetti e il direttore Vaila per la grandissima opportunità che mi è stata concessa, ma vorrei anche ringraziare, se mi è permesso, la Juventus, perché nonostante avessi ancora un anno di contratto hanno capito quello che era la mia volontà e mi hanno lasciato andare senza nessun problema. Sono contentissimo di aver avuto questa opportunità che spero di sfruttare assieme alla squadra e a tutta la gente di Modena. È stata una mia scelta ponderata per permettermi di migliorare e di arricchirmi attraverso la collaborazione di altri staff di altissimo livello in squadre importanti. Grazie a questa esperienza oggi mi sento un allenatore pronto per affrontare questa opportunità che mi è stata data dal Modena. Di sicuro la squadra dovrà riconoscersi in campo, in ogni fase di gioco dovrà sapere cosa fare. Per far questo bisogna lavorare tantissimo, io credo molto nel lavoro, sia quello collettivo ma anche quello individuale nel miglioramento del singolo giocatore. Conosco Paolo da diversi anni, quando ero direttore a Siena facemmo un colloquio, da lì la nostra conoscenza è andata avanti, ci siamo sempre sentiti. È successo anche che l'anno scorso lui venne a vedere qualche partita del Modena, quindi scambiamo anche delle battute, delle chiacchiere di calcio molto generiche e quando poi alla fine di questa stagione abbiamo con la proprietà fatto il punto della situazione e abbiamo capito che il ciclo di Tesser era per noi giunto al termine, l'unica idea che io ho avuto è stata quella di Paolo Bianco che ho portato alla proprietà e quando poi c'è stato l'incontro tra la proprietà e Paolo, loro hanno deciso che insomma era la persona e il professionista giusto per iniziare un nuovo ciclo, per cui dico con tutta sincerità che non c'è stato nemmeno bisogno di parlare con altri allenatori o fare casting particolari, siamo subito stati molto decisi sulla scelta perché lo riteniamo l'uomo adatto per il nuovo ciclo del Modena. Grazie 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 Grazie